Lo sapevi che la prima scelta del draft NFL del 1950 dei San Francisco 49ers è stata il lottatore di wrestling Leo Nomellini? La franchigia, appena confluita nella National Football League, lo chiamò con il numero 11 assoluto, un mezzo furto, considerando che il giocatore entrerà poi nella Hall of Fame della disciplina. Un risultato davvero eclatante se si pensa che nella off-season Leo continuerà ad esibirsi nel ring, principalmente in California e in Minnesota. E stando alle biografie più accurate, sì, questo grande sportivo era nato in Italia, precisamente a Lucca, per poi spostarsi con la famiglia in giovanissima età negli States.